Benvenuti Questa è la strada per il Kakadu Noi non cediamo a Kakadu perchè sono oltre 10 km E' troppo distante, è troppo... ...per' da tagliarla Però stiamo andando Verso l'Aderallia River Dove andremo a vedere, spero, alle 3 Il salto di Kakadu E' una tappa che dovevamo fare domani Ma ho visto le... abbiamo preferito fermarci alcuni giorni Stamattina abbiamo preferito fermarci a Darwin E la spostiamo domani Qua è la giornata Litchfield Park Quello che mi colpisce è le strade Oltre ad essere dritte Si le avevo viste su Google Earth Ma sono veramente dritte e puoi viaggiare a una velocità pazzesca Perchè comunque se non trovi I... Che si chiama i T-Road Questi autobus lunghi 30 metri Poi è raggiunto Adesso stiamo cedicento praticamente con questa macchinina Il paesaggio è abbastanza monotono Lateralmente ci sono delle coltivazioni penso di mango o di avocado Comunque sono così Frutta tropicale Ci sono i termitai Ogni tanto si vedono Ma è difficile con la videocamera No 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 Comunque noi l'abbiamo visti Guardate che terra rossa La terra si è veramente rossa Sembra la terra del deserto Solamente che c'è Molta vegetazione Ci vediamo all'arrivo Bye! Ciao! Ciao! Ciao!